Buonasera Scusate Rocco Doria di San Giovanni Volevo fare una domanda Per piacere Sentite Siccome ieri il presidente del consiglio Ha fatto salveggia Che non bisogna uscire Da casa fino a Qua è aprita Volevo sapere Se c'è qualche domandina Che si può fare Per uscire fuori Magari pure 3 o 4 ore Durante la giornata Signor Noria Allora Siamo arrivati a un punto che Per 15 giorni dobbiamo stare Dentro casa il più possibile Per sveglare il pubblico Dottor non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio E' di ieri Ancora ora è un giorno Che è di ieri che io riesco Ma io con la moglie A casa non ce la faccio Mi dovete credere Proprio un cazzo Giù Con vostra moglie La persona ideale L'anima gemella Possibile? L'anima gemella Una volta Dottor L'anima gemella Una volta Ma vi dovete creare Un cazzo Un porto Chiudo E' capace che succede Qualche cosa E' meglio Mi prendere il coronavirus Che esce E' capace che Magari poi Mi curano E mi sarvo E così E' capace che Succede anche una cosa E mi sparo Signor Loria Manteniamo la calma Un attimo Mi ascolti E' dottor Parafaggio Dei dire mantenete la calma Vi vorrei bere io Alla casa Veniteci Veniteci E c'è state voi Due giorni Con mia moglie Che poi vedremo Se mantenete la calma Voglio dire Dottor E perché Vostra moglie Non l'avete scelta voi Non era Davanti l'altare Non l'avete sposata Dottor Saremo insieme E' tutta la vita Fino a che Molte non ci si parli Non ci si parli Dottor Quando si è fidanzato Quando si è fidanzato Ma non so voi Quella signora Borra Però Quando si è fidanzato Perché Tutti Rosagliuri Poi te spusi Cominci a stare insieme In questa stessa casa In questo stesso dietro Ebbene non vuole I problemi Dottor Avete capito Che voglio rire Ok Ho capito Ma adesso Proprio Approfittate Di questa Purtroppo Occasione negativa Diciamo Per trovare Gli aspetti positivi Per riunirvi Per stare insieme Per abbracciarvi Che mi abbracci Dottor Guarda i positivi I dati positivi Che è tutto negativo Che mi abbracci Come l'arma Se avete qui fatto Io l'altro A casa Non c'è una canna Dottor Per piacere Vedete Se c'è un quale domandina Organizzate una cena A lume di candela Fatevi una sorpresa A cena a lume di candela Io e mia moglie Cucinatevi dei manicaretti Sì Ma non c'è un prelice Cucinio Dottor Quando mancarete Ormai Tra me e lei Io non c'ha fatto Fino Quattro di apri Qui c'è Stai Alla casa Curire l'interno Non c'è 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 Una domandina Che posso fare Io Per esempio Dici Il signor Loria È affetto Di affucamento Non del coronavirus È affetto Di affucamento Che si sente Chiuso E deve stare 4-5 ore Sì E ora Io non voglio Dottor E carotto Dotto Signor Loria Eh Signor Loria La sento un attimo La sento un attimo agitata Io sono anche psicologo Allora E aiutate Allora Dottor Per piacere Eh Cercate di stare Non sempre vicini Lei adesso In questo momento Dove sta Ma che Non sto vicino io Si avvicina Illa Si avvicina Illa Avete capito Dotto Quello Vado Perché non voglio Io Veno Illa Avete capito Un fatto Quattro E ditegli Che Volete stare Da solo In una stanza Per due ore Capito Cederete Ieri sera Che ci stai Riccendo 30 milioni Di voto Cederete E rilla Sempre setta Ancora Sempre appicciata E lo virus E lo corona E ora moriamo E ora così Quello scatto Certo io Stamattina Sono arrivato Il punto Che c'è Un terreno Quello scatto Quello scatto È sempre tardi Dottor C'è una domandina Per la fare Molto Il Pronto E tu Mato Il Frick Frick E comunque Un'altra cosa Che volevo dire Appena uscita La comunicazione Ufficiale Per tutti I mariti Che vogliono C'è un modellino Per fare Una richiesta Viene Un'equipe A casa Con medici Anestesisti Te sedano E te lasciano 14 giorni Sedato In modo Che posso portare La quarantena Con figli e moglie Da casa Un modulo È scaricabile Su pro sito www.mangicanequarentenaedacasa.it Ma comunque Ma posso dire una cosa Voglio Su pallossi di morte Tegno Un panico Una paura Una cosa brutta C'è La sensazione Ma voi ci pensate 30 anni Chiuse in giro la casa Con una moglie Di nocci Ma è meglio Che mi prendere Un cuore Una birra Mi muro subito Pasqua Niente di che Pasqua Praticamente Hai tagliato Metà pit Avessi Le pit Grosse E ci ho fatto Uno strato Di rosa marine Quasi Poco piccante E ci ho messo 3-4 cucchiaini Di rosa marine Poi ho messo 10 fette Di mortatello Di sopra Ho fatto Un altro strato Di formaggio Caciocavallo Quattro felle Di caciocavallo E poi sopra Ho messo Due formaggini Per completare Che ci dona Un formaggino Ci dona Lo sapore Capito E Pasqua E poi Ho un po' D'ensalata D'ensalata verde Perché Alla sera Ho avuto 3 E mi hanno Leggeri Quindi Più leggere Di questo Io non posso Pasqua Ma Hai parlato Poco L'ottore Ci hai detto Tutto io Almeno Una mezza Pitta Alla sera Almeno Mai mangi Quindi Ho detto Che prendo Una pittina Quei cio Piccoli A me c'è Più la Dalla pittana Rosso Perché sei sbagliato Però Sono mangi La mia man Una mezza Pitta Sì La pasqua Compa La sua Ma Ve ne dovete Andà Ma Perché Ma Se vedi che Andate Ve ne Andate Ma Perché Sono Andate E Bisoglio Ve ne Andate E No